Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi ci ritorniamo su che vincere da sempre provare a vincere in compagnia della sorella di Ciro, che sta volando, ecco. E non ti so per presentare, allora, allora, te lo so per fare, coglione, hai capito? No, allora, va bene, e anche, va bene family family, però tu devi spiegare, che tu puoi giocare, ecco, e comunque io ti so per presentare, quindi è inutile che fai se cose, vabbè io entro qua, eh, entra in arco, cosa entra nell'arco, ecco, ora per favore, non crashare, per favore. Ok, sì. Allora, per tutti, allora. Vabbè. Allora, comunque, stiamo dai testi a meno, ma per vincere, però, per vincere. Tra l'altro dobbiamo vincere, però. Vedi? Ehi, Nazgola, voglio fare l'artgola, mi piace l'artgola? Eh, non mi piace ne cosa facile a me, non mi piacciono. Allora, allora, vi ricordate, vi ricordo già, raga, che in questa modalità ci sono diversi finali, e quindi, ci sono dei finali, ci sono dei 10, ci sono 14 finali, in questa modalità. Ehi, io sono 3. Ehi, in classe, non me ne frega, io non voglio entrare in classe, non ho voglia di studiare. Lo so, ci ho giocato, ci ho giocato, ci ho giocato, lo so già cosa fare. Allora, skip class, skipate tutto, skip class, skip class, ma siete scemi? Io voglio saltare la lezione, la voglio saltare, eh? Saltate sta... Fai le lezioni, ma tu, fai le lezioni, che palle. Eh, dai, ma dobbiamo proprio studiare, ma che palle. Ah, vabbè, se ce la faccio, se non mi lasci. No, mi sono lasciato il gioco, mi sono lasciato il gioco. No, no, non mi sta andando il gioco, mi sta andando a scappare il gioco. Lei si è tutta, che cazzo non riesce? Ah, press find your senior state students, eh? È un bug, è sempre così. Allora, io mi calcio, non me ne importa. Tu metti i miei puli in punizione, tanto che me ne forza. Ma tanto... Rasconsate, allora, Natale è finito da 300 anni. Come è possibile che c'è ancora questa apodenza? E che raga, c'è ancora la apodenza di Natale, se il Natale è finito da due secoli? Stavo a dare capire questa cosa. C'è un week, un week. Allora, Sonia, quando esce là, clicca History Lessons. Eh, son, devi cliccare History Lessons, perché là c'è un finale più bello. Se clicchi là, Science Lessons, c'è un finale piccolo. Quindi, mi raccomando, clicca History Lessons. Eh. Allora. Allora. No, tanto non ci puoi entrare, non ci puoi entrare, no. Allora. Allora, nella sedia. Risiediti nella sedia, stai davanti alla prof. La prof del caso sta davanti. Ma poi, avete notato qualcosa sul mio banco? Sì. C'è una mano verde. C'è una mano verde. Tipita secret. Tipita secret. Tipita secret. Tipita secret. Tipita secret. Vedano, perdiamo. Allora, che cazzo, questi? Boredito, H5, zombie house, eh. Tocca, di... Chia, chia. andello già qua si 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 ma come a parole mie ma è mia cosa ma invece si ma Vai alla mezza Seguimi Lo so io dove è la mezza La vuoi vedere quanto è bella la mezza? La vuoi vedere Quanta roba c'è? La vuoi vedere quanto c'è di roba? Vai vieni Guarda Ce n'è tantissima Guarda C'è tanta roba Guarda C'è tantissima roba No no vieni Veramente Guarda una roba c'è Non c'è niente Eh cosa c'è? Non c'è niente In cazzo di mensa è Non c'è niente Guarda me il panino qua Cos'è chi sto? Tengo qua acquistato la lettra Ma tengo una lettera Tengo una lettera bellissima Tengo una lettera di San Valentino Signore Allora Chi è questo? Chi è questo? Che vuoi tu? Che vuoi tu? Che vuoi? Allora Cosa vuoi su shame? Non vuole un cazzo Eh cosa vuole? I'm starving for a burger I'm starving for a burger I'm starving for a burger Bra, la lezione di storia, la lezione di storia, lezione di storia Lezione di storia, ricca history lesson, history lesson Field trip zeta game Bra, tutti history lessons, bra, così si fa So, field trip zeta game Ecco come si chiama field trip zeta Ecco come si chiama Ma la lezione, io già ci sono in lezione Field trip si chiama Welcome back my sunshine students We are going to start with our history lessons today Yeah, history lessons 30 minuti dopo Va bene Va bene ragazzi Concludo è qua la prima parte Se vi sia piaciuta e ciao 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 Ciao